Opportunità, inclusione nel mondo dell'arte. Negli ultimi anni molto si è discusso intorno a queste tematiche chiave, in particolare quando queste hanno riguardato professionalità al femminile. Infatti, proprio nel 2020, il Metropolitan Museum of Art in New York ha annunciato la creazione di un nuovo programma dedicato all'arte indigena, comunicando che avrebbe assunto il primo curatore in assoluto specializzato nell'arte dei nativi americani. La nomina è ricaduta sulla curatrice Patricia Marokin-Norby, discendente dal gruppo indigeno messicano dei Purepecia e già assistant director al Museo Nazionale degli Indiani d'America allo Smithsonian di New York. La Marokin-Norby è pronta così ad affrontare la sfida e nonostante la grave situazione della pandemia che sta colpendo duramente l'America, è pronta a lavorare più che mai in stretta collaborazione con le comunità di nativi americani indigeni.